Oggi come oggi bisogna aiutare. E credo che la solidarietà sia un dovere. Torna anche quest'anno la raccolta del farmaco. Fino al 13 febbraio, nelle farmacie che aderiscono all'iniziativa del Banco Farmaceutico Fondazione Ollus, sarà possibile donare medicinali per le persone in difficoltà. Un progetto che vede in campo anche le ACLI in Campania. Le ACLI regionali, insieme alle ACLI benementane e napoletane, si sono attivate per il Banco Farmaceutico, per dare un supporto a quelle persone che non riescono nemmeno a comprarsi i farmaci. Le povertà, anzi, si sono acutizzate non solo nel periodo post-pandemico, ma anche in questo periodo di guerra. E le ACLI si sono attivate anche con il Banco Alimentare a Caserta. Aumentano le esigenze, ma cresce anche l'attenzione dei cittadini. Queste iniziative, in questo momento storico di grandi difficoltà economiche, sociali, anche dopo la pandemia che ha visto inaspirsi questo tipo di problematiche, è aumentata sicuramente. Quest'anno vediamo anche una grande sensibilità, perché ho notato rispetto agli altri anni un'attenzione maggiore da parte degli utenti che acquistano farmaci da donare. E nel sagno giovani migrati diventano volontari, così la raccolta rappresenta anche un'occasione per promuovere l'integrazione. Abbiamo voluto effettuare un'integrazione della psicologia del dono con quella dei ragazzi extracomunitari, coinvolti loro stessi come i volontari.